La crisi infinita di Giunta ha visto finalmente un epilogo e nei titoli di coda di questa enorme e lunghissima vicenda il vissero tutti e nove felici e contenti almeno per i prossimi due anni. Dopo mesi di tira e molla si è giunti finalmente ad una soluzione che vede intanto il reintegro, quello dell'assessore Davide Zappalà, che dopo le dimissioni ora recupera la sua delega all'urbanistica, ma anche e soprattutto un posto in più per fratelli d'Italia. Anche perché in caso contrario al prossimo Consiglio, quello datato 22 di marzo, con tutta probabilità avrebbe fatto muro contro una Giunta instabile con il rischio di una rovinosa caduta al momento del voto. In corsa quindi entra prepotentemente Marzio Oliviero, che dalla Presidenza del Consiglio rassume le delega d'Ambiente e Protezione Civile. Obbligatoriamente anche una donna. La quota rosa sarà ricoperta da Cristina Zen, che gestirà animali, parchi e giardini. In sede di Giunta ieri pomeriggio le prime indicazioni del Sindaco, poi ufficializzate durante l'incontro Lega ieri sera. Il commissario Michele Mosca ha tentato di puntare i piedi e di sottolineare che in Regione la lotta tra i fratelli non è ancora finita. Visto che le ultime elezioni dell'Ufficio Presidenza del Consiglio sono state impugnate ed ora saranno giudicate dal TAR, ma il Sindaco questa volta ha deciso di imporsi e a fronte di questa soluzione, che fa salire sia il numero degli assessori ed evidentemente anche i soldi che i cittadini dovranno sborsare per mantenerli, in caso contrario avrebbe rassegnato le sue dimissioni, con un bel tutti a casa. 1 a 0 quindi per Fratelli d'Italia che ne esce rafforzato e 9 a 0 per gli assessori in forza.